Il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo All'Angelo della Chiesa di Laodicea scrive Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei giove né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me ovo purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per lungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo di rimprovero e di castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il padre mio, sul suo trono. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Siamo adorato e ringraziato ogni momento. Saccamissimo, bellissimo, saccamissimo. Ecco, il Signore Gesù questa sera ci congela, diciamo così, momentaneamente, da questi momenti comunitari, pubblici, di adorazione, con questo brano del libro che è l'ultima delle lettere alle sette chiese, abbastanza famosa, forse dal passo più notorio tra i sette, e che contiene, come Gesù stesso dice, qualche bella sferzata, insomma, abbastanza tagliente, indirizzata appunto ai nostri cuori. Con la precisazione, insomma, che anche quando il Signore usa parole forti, e chiare, come in questo caso, ciò che lo muove è sempre l'amore, questo dobbiamo sempre ricordare. Tutti quelli che amo li riproverono di castigo. Castigo non vuol dire, penso che tutti lo sappiamo, quella punizione negativa, insomma, che ci ripugna pensarla soltanto in Dio, quasi che fosse una vendetta o un suono, ecco, dinanzi alla nostra cattiveria. Castigo, nella Bibbia, dall'etimologia latina, significa Castum Agere, cioè rendere casto, quindi purificare, quindi un intervento correttivo di Dio, anche quando è doloroso, è sempre realizzato al bene della persona. E anche, ecco, l'eventuale severità, e talora anche durezza dell'intervento divino, ha sempre, infine, la correzione, la crescita e l'edificazione dei propri figli. Teragli ebrei si leggono parole sotto questo punto di vista, se vogliamo, ancora più forti. è per la vostra correzione che voi soffrite, si legge chiaramente, Dio, il nostro padre, ci data come figli e non, il testo usa proprio questo termine, come bastardi, quindi come figli illegitimi, diremmo un termine un po' meno forte. Quindi, abbiate la sapienza di comprendere che le prove, le sofferenze, le tribolazioni della vita, che proprio nessuno mai sente in questa volta di aggime, sono, per quanto riguarda la Divina Volontà, tutte finalizzate alla nostra correzione. Ecco, qui, tra subito il ballo, abbiamo cominciato il commento di questa lettura dalla sua parte centrale il collirio per ungere gli occhi e rumberare la vista. Ecco, la situazione è questa. I fedeli di questa chiesa, di la Odicea, erano diventati chiedi. E la frase che andavano ripetendo, o quantomeno pensando, era questa. Non ho bisogno di più. io posso fare a meno in realtà di Dio e del suo aiuto. Quindi, Brancolo è lambuisco in una vita cristiana mediocre. Stoccoli il Signore quasi per farmi un favore una volta ogni quando. Me lo ricordo. non ci vado, certamente conto, non è che sono un amico, insomma, ecco, ma certamente non sono un campione di amore, no? Pensiamo in quanto questo stato interiore è oggi, ahimè, ampiamente diffuso, tantissimi fedeli. quella situazione che tutti in Italia, cioè, nei recenti sondaggi, sapete che le persone di chiesa hanno anche le statistiche pubblicate dalla CEI, i ragazzi a scuola ancora il 90% chiede di fare parte di insegnamento della religione cattolica e italiana in una percentuale non molto lontana da questa si dichiarano cattolici. Ecco, però, sappiamo bene che la frequenza assitua, ecco, quantomeno la Messa Dominicale che molti si pensano che sia quasi come dire che dicevo la Messa d'Ultre Domei quindi tra poco mi apre un processo di canonizzazione. La Messa Dominicale non è il massimo fervore della vita cristiana con tutto il rispetto ma è il minimo. Ecco, quindi dal 90% di persone che si definiscono cattoliche si cala a seconda delle zone d'Italia 10-20% qualche raro punta di 25% ma anche qualche preoccupante picco in basso che sta di sotto addirittura del 10% ma poi tra questi praticanti purtroppo non tutti riescono a fare una profonda esperienza di fede tale da poter incidere profondamente sulla vita in maniera percepibile tangibile visibile perché noi sappiamo che i cristiani vanno in giro ostentando le cose che fanno lungi da noi appunto lo ostentare o il o il mostrarsi o il mettersi in mostra però quando una persona è fedele di Gesù autentico si vede non c'è bisogno di chi ne che lo dica ne che lo ostenti semplicemente si vede perché ha uno stile divino che si vede ne parlavo anche ieri sera insomma con i cari figli che hanno accettato di fare parte del consiglio pastorale se un cristiano vive la comunione la carità costruisce la pace la concordia ha un stile rispettoso propositivo affabile cordiale non parla male di nessuno non critica non giudica non è vulgarice questo si vede quindi non c'è bisogno di cosa dica se io vedo una persona che è sempre sorprendente che non mi parla male di nessuno che mi tratta sempre con rispetto con dolcezza con amorevolezza non c'è bisogno di che faccia che cosa quale grande città no? è così e questo è gli stinti di Gesù sono quelle virtù che necessariamente traspaiono all'esterno ecco all'esterno l'unità non traspare la penitenza non traspare non deve trasparire le persone non devono sapere se noi facciamo penitenze che penitenze facciamo perché noi facciamo privato inanzi al nostro Signore o gli atti interiori di pazienza o la nostra preghiera continua gli atti di amore che facciamo nei confronti di Gesù dentro il nostro cuore gli atti di unione non ci vediamo questo non si vedono all'esterno ma alcune cose inevitabili che si vedano ecco dove sono tutte quante queste cose ecco il problema della rividenza e Gesù dice attenzione la rividenza è uno stato allarmante dell'anima e certamente non c'ha bisogno Gesù che gli dica io che c'ha ragione Gesù c'ha ragione appunto e basta l'unica cosa che posso dire è che l'esperienza pastorale con me che sono un po' di sacerdotio è tantissimo e conferma questa analisi questa situazione cioè la rividenza è molto più preoccupante di una persona che invece frega quindi che ha fatto una scelta contraria o quantomeno o quantomeno di distanza scelta dalle cose della fede a volte anche convinta a volte anche fondata su più o meno valide ragioni filosofiche culturali ideologiche eccetera ecco allora tornando il collidio per ungerci gli occhi che cos'è? eh il collidio per ungerci gli occhi è esattamente questo quando quando arriva qualche prova qualche voce qualche situazione di sofferenza che cos'è? è un modo in cui il Signore cerca di scuoterci dal nostro torpore dalla nostra debolezza cerca di toglierci da qualche nostra situazione magari neanche conosciuta di distanza da lui di peccato di vizio di idolateria di attaccamenti vari e affettivi e questo è lo proprio per il nostro bene anche se noi non lo comprendiamo sono pochissime le persone che dinanziano la sofferenza dinanziano la tripolazione ma la prima cosa che pensano è fermi questo è volontà di Dio forse io non capisco perché il Signore mi manda o per me che accada questa brutta cosa ma sicuramente un motivo c'è quindi mi metto il preghiero nella coscienza e non muovendo si voglia che Dio non voglia questa sofferenza ha il bene placido della divina volontà e cerco chiedendo l'aiuto della sapienza il Signore chiedendo che mi dia un po' di collino con gli occhi che io possa vederci bene cosa il Signore mi sta dicendo perché io possa cooperare con la sua opera correttiva nei miei confronti e non semplicemente cominciare come vanno avuti a lamentarsi a dire ma adesso non è capitato quest'altra tegua e come faccio il Signore mi ha abbandonato e tutte queste cose il collino per gli occhi ecco poi per chi è lievito e pensa di non avere bisogno di nulla ecco questa è una cosa veramente terribile perché Gesù non ha nessun potere su chi pensa di non avere bisogno di nulla nessun perché Gesù è il Salvatore che vuole essere riconosciuto come tale ma lo riconosce come Salvatore chi pensa di avere bisogno di nulla di avere bisogno di tutto altro che di non avere bisogno di nulla come ci ricorda Gesù stesso del Vangelo senza di me non potete fare nulla non potete fare qualcosa niente quindi avete un bisogno assoluto di me ma l'audo sufficiente questo non lo riconosce e allora oltre che al collinio bisogna prendere coscienza non sai di essere un infelice un miserabile da un povero cieco e nudo parole forti la prima spia che ci fa comprendere se siamo non troppo vicini a Gesù è proprio questo è l'infelicità perché noi abbiamo il nostro tasso di infelicità è inversamente proporzionale alla nostra vicinanza con Gesù quanto più siamo vicini a Gesù quanto meno siamo infelici siamo vicini quanto più siamo lontani da Gesù quanto più pensando alla nostra vita cominciamo a pensare ma che brutta vita ecco versione che a volte viene anche coniata diciamo così o meglio coniugata con termini un po' più coloriti ecco di brutta vita allora il loro modificato dal fuoco per diventare ricco che Gesù consiglia di comprare da lui che cos'è cos'è il loro modificato dal fuoco modificato dal fuoco è l'amore è l'amore ardente è l'amore caliente Gesù alto dal fuoco Gesù è stato ultra purificato con l'accogiorno di pene infinite con cui ha mostrato manifestato dimostrato il suo amore innanzitutto obbediente al Padre che gli chiedeva questa nostra salvezza ma anche è completamente offerto donato a noi una persona tiepida bisogna di essere riscaldata e è tiepida Gesù mi sta dicendo indirettamente perché non conosce non ha mai meditato abbastanza non ha fatto proprio non ha interiorizzato il fuoco dell'amore che esce dal cuore di Gesù come diceva prima durante la Santa Messa la cosa più importante che dobbiamo spiegare che capita nella nostra vita è conoscere l'amore di Dio l'amore forte l'amore immenso l'amore che ti scalda il cuore e che te lo cambia l'oro purificato dal fuoco e poi le vesti bianche per coprirti nascondere la veroniosa dignità questo dovrebbe essere un po' più facile comprenderlo no cosa sono queste veste bianche noi tutti quanti abbiamo assistito almeno qualche po' tra la nostra vita al sacramento del battesimo a un certo punto viene messa la veste bianca un bambino battezzato che cos'è la veste bianca lo spiega sempre San Giovanni nel libro dell'Avocalistice le vesti candide sono le opere giuste dei santi allora una persona tiepida non compie se lo Spirito Santo l'aiuta a entrare in se stesse ancora un po' nel ramo di coscienza non compie opere sante a volte sta anche più o meno consapevolmente lontano in maniera grossolana addirittura da qualche precetto del decano ecco allora un'esperienza fondamentale che noi dobbiamo chiedere a Gesù è alzitutto di farcela conoscere la nostra unità perché ce la abbiamo ricordiamo la visione del peccato originale che succede con il peccato originale Adamo si accorge di essere davanti a Dio mutuo e si vergogna quante volte il Papa anche recentemente invito a leggere alcune catechesi bellissime che ha fatto sul sacramento della benitenza ha detto ragazzi noi dobbiamo non avere paura di avere vergogna dobbiamo vergognarci magari io non le confesso perché mi vergogno ma dopo volte confessi perché non ti vergognerete devi vergognare ti preoccupare non ti preoccupare ti vergogni della tua unità bene ma gliela dire a Gesù nel sacramento della confessione se guarda come sto ridotto dammi tu qualche peste bianca ripestimi tu ma magari se gli uomini dicessero questo diretterebbero subito tutti i santi ecco ma cosa fece Adamo quando si è in corso di essere mudo ricordiamo il passo della vita della Genesi si è dato l'aria nascondere si è sottratto alla vista di Dio anziché dirgli aiuto no cerco di ricoprirmi io in qualche modo con il suo amico quindi cerco di apparire più o meno buono almeno agli occhi del prossimo di salvare la faccia mi metto qualche bella voglia di fico sfungo dalla vergogna e fungo da Dio è un bel guai è un bel guai ecco Gesù ci ricorda guarda io non sfondo nessuna morte queste cose te le dico non le sta dicendo chiaramente Don Leonardo sta commentando le parole di Gesù sicuramente sta commentando in maniera non adeguata incertamente perfettibile però sta cercando di essere fedele insomma le parole che dice Gesù e quindi ricordati figlio mio io sto alla porta del tuo cuore busso busso non sfondo la porta non la prendo a calci impressionante il rispetto che anche Gesù ha della nostra libertà pur sapendo che se noi sciandolatamente non gli apriamo la porta segniamo la nostra rovina non solo eterna ma anche temporale anche ci inviamo la vita anche sulla terra eppure lui non sfonda la porta bussa se qualcuno ascolta la mia voce anche quella che è risuonata questa ora mi apre la porta io vengo subito immediatamente c'era un voluto che dico me e poi il vincitore lo farò sedere presso di me chi è il vincitore chi è il vincitore in questo contesto chi è il vincitore il vincitore è quello che a dispetto di quelle frasi superbe non ho bisogno di nulla vince contro queste cose dice no 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 io sono l'ultimo dei miserabili stracciotti ho tante cose di cui vergognarmi ecco e forse non le so vedete neanche a me stesso oltre che non di là nessuno adesso io guardo Gesù che recanto tutti quanti gli amo una volta di quello gli dico vieni vieni tu vieni a rinnovare il mio cuore vieni ad abitare con me vieni a scaldarmi col fuoco del tuo amore vieni a darmi la luce della sovivenza che ti c'è divento col col Dio rivestiti di quelle opere sante che io non ho non dire che sto a dire non faccio niente di mare non ammazzo non rubo è tutto sommato ma tutto bene ecco e facciamo questo e noi vinciamo tutto il più grande vinico che abbiamo nella nostra vita che non dobbiamo andare a cercare molto lontano il nostro nemico più grande siamo noi stessi in particolare la nostra volontà quando si chiude all'influsso della grazia si intestardisce si incancrinisce su alcune pseudocondizioni che c'ha che difende come i tesori compreziosi che impedisce a Gesù di entrare sulla porta e bussano molte volte purtroppo ahimè gli uomini non mi aprono mi lasciano fuori e io devo vedere il dolore perché Gesù ha questo dolore di vedere delle vite rovinate già da qui che avrebbero essere meravigliose senza poterci fare niente non perché non posso perché Gesù è un impotente ma perché la creatura non mi dà l'autorizzazione e il permesso di poterla aiutare è un bel problema questo qui chiediamo a Gesù adesso nel nostro intimo dialogo con Lui che ci preserva da queste sciagole e che ci consenta ogni giorno di più di aprire a Lui le porte del nostro cuore e della nostra vita ti ero dato adorato e ringraziato ogni momento Santissimo e bellissimo Sacramento e ringraziato